Il caro Bolletta e l'impennata dei prezzi carburante ha messo in gravi difficoltà imprese e famiglie. Così la storica azienda Garbellotto S.p.A. ha deciso di aiutare i propri dipendenti. Il momento del caro vita è importante. Noi abbiamo sempre considerato la nostra una famiglia aziendale più che un'azienda familiare e quindi sfruttando il piano del welfare abbiamo deciso di dare un bonus di 1000 euro ad ogni bottaio per aiutarli in questo momento chiaramente difficile. Il bonus verrà distribuito integralmente senza tassazione attraverso la nuova piattaforma di welfare aziendale. Il piano welfare che cosa vuol dire? Che questo bonus è dato tramite buoni carburante, buoni spesa, buoni per il corredo scolastico dei figli e tante altre cose in modo tale che è detassato e ci ha permesso di dare un bonus che sia concreto, che sia tangibile. Un'iniziativa questa a favore dei dipendenti che va di pari passo con i progetti di sostenibilità dell'azienda in un momento in cui molte imprese stanno chiudendo o sospendendo l'attività proprio a causa del rincaro energetico. Noi per fortuna abbiamo fatto un piano di sviluppo del nostro impianto fotovoltaico che ci permetterà di arrivare a luglio a una copertura quasi totale del nostro fabbisogno energetico e quindi ci permetterà di superare il momento. Il mondo del vino e delle voti sta funzionando e in questo momento ci spiega Garbellotto non risentiamo della grave situazione della congiuntura geopolitica, diversa la situazione per altri settori. Io credo che bisogna andare incontro alle imprese e alle famiglie, voi immaginatevi banalmente l'IVA, l'IVA riferita a 122 su 200 diventa 44, quindi c'è un getto d'IVA che è più che raddoppiato di conseguenza credo che il governo possa fare dei tagli e possa anche fare un piano di sviluppo energetico del paese che ci permetta di superare il momento a medio e anche a lungo periodo perché l'Italia è uno stato manifatturiero e deve arrivare a una produzione di energia che sia consona per lo sviluppo di questo settore.